Con Antonella De Angelis parliamo di questa iniziativa musicale che riguarda Auschwitz, un'orchestra tutta al femminile in questo concerto della memoria. Sì, ecco, più che concerto è una pièce teatrale di teatro musicale in cui l'orchestra è la protagonista insieme alle musiciste che erano realmente nell'orchestra femminile del campo femminile di Birkenau ad Auschwitz. È la storia vera di Fania Fenelon, cantante e pianista, di Alma Rosé, la nipote di Gustav Mahler. E quest'orchestra di deportate ebree aveva la funzione di rilassare le SS, quindi c'era l'esecuzione incastonata nella recitazione di brani che realmente le SS amavano, tipo Mascagni, Puccini, piuttosto che la Quinta di Beethoven e Brahms. Il teatro viene rappresentato da Tiziana Di Tonno a livello teatrale e Dmea Marzoli. Che saranno proprio le protagoniste Fania e Alma e verranno messi in risalto tutti gli aspetti psicologici che in questa baracca sono stati vissuti profondamente nel contesto terrificante del campo di concentramento. Una pièce teatrale per non dimenticare. Sì, abbiamo pensato che questa operazione culturale emotivamente possa essere più coinvolgente di una semplice lettura o di una semplice comunicazione dei fatti. L'arte secondo me in questo è forte come veicolo emotivo per poter trasmettere dei contenuti forti. Ecco.